Simon Partono in tandem i gemelli Derrick Mentre lateralmente Lennon e porta avanti la palla I gemelli terribili superano la metà campo E il numero 11 della hot dog parla al piede si allarga sulla destra Crosti Lennon Devo stare a te I Derrick si dirigono verso la porta avversaria per intercettare il Crosti Lennon Ma vediamo scattare in direzione della porta numero 14 della new team Bruce Harper Non riuscirete a farmela gemellini Vi precederò come prima e non ce la farete assegnare Vai Jason! Ok! Che fa? Ma che succede? Jason Derrick si butta a terra con la schiena scivolando sul terreno di gioco Non comprendiamo che cosa voglio fare Sto arrivando Jason! Siamo tutti sbalorditi per la mossa dei Derrick Noi siamo la catapulta infernale! Catapulta infernale! James Derrick è saltato sui piedi del fratello Jason Straiato a terra e li ha usati come trampolino di lancio Come un proiettile lanciato da una catapulta James arriva di testa sul pallone Il tiro è fortissimo ed è gol! I gemelli Derrick hanno accorciato le distanze al ventesimo del primo tempo Con questa rete segnata con una tecnica acrobatica Finora mai vista sui campi di gioco Non c'è niente Non c'è niente Catapulta infernale